Valutare il percorso di crescita del bambino per intercettare eventuali anomalie che se trascurate possono interferire in modo anche grave per tutta la vita. Il centro di auxologia dell'ospedale dell'Aquila mette sotto la lente ringrandimento le specifiche problematiche con visite gratuite che verranno effettuate mercoledì prossimo, 19 settembre, negli ambulatori situati al primo piano dell'edificio L5 del Presidio San Salvatore. L'incidenza del disturbo della crescita a livello nazionale del 10% con l'Abruzzo che non fa eccezione, la struttura aquilana, diretta dal professor Giovanni Farello che è anche responsabile del centro regionale di riferimento della disciplina, è da anni in campo con azioni di sensibilizzazione e verifica. Per usufruire del controllo che si abbarrà di specialisti del servizio del San Salvatore non è necessaria la prenotazione, ci si potrà presentare direttamente in ambulatorio mercoledì dalle 8.30 alle 14.30. L'Open Day del 19 settembre, dal titolo Tuo figlio cresce normalmente, scoprilo, promosso a livello nazionale della FADOC, offre un'occasione importante ai genitori per monitorare la salute dei propri figli e in caso di problemi avviare un percorso di cura.